26 presunti appartenenti alla clana dei Tuppi legato ai Mazzei, storico gruppo di Cosa Nostra, sono stati arrestati dai carripelli di Catania. I reati ipotizzati a vario titolo sono assolazione mafiosa, omicidio, estorsioni in concorso, furto, recettazione, riciclaggio, porto di armi, trasferimento fradolento di valori e corruzione. Sono stati sequestrati beni per 1,5 milioni di euro. L'operazione, denominata 7 ore, ha fatto luce su uno degli omicidi da ricondurre alla guerra di mafia tra i Tuppi e la Cosca Pulvirenti negli anni 80 e 90, alleata con la famiglia Santa Paola. Si tratta di quello del consigliere comunale di Visterbianco Paolo Arena, l'esponente di spicco della DC, assassinato il 28 settembre del 1991. Nella faida mafiosa era coinvolto anche Orazio Pino, l'ex boss rivale del Mappassoto, poi pentito, ucciso la settimana scorsa a Chiavari. Paolo Arena, 54 anni, era dipendente del comune di Catania ed esponente di spicco della DC di Misterbianco, partito di cui era anche segretario locale ed era legato alla corrente che faceva capo a Giulio Andreotti. Tra i destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal GIP, anche i responsabili del delitto. In quell'epoca Arena era da poco tempo in pensione. Era stato ucciso con colpi di fucile caricati a pallettoni davanti al municipio di Misterbianco in pieno giorno. Arena sta posteggiando la sua lanciatema quando era stato ucciso.